Un elicottero è precipitato in Italia, in corso la ricerca dei dispersi. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Nella suggestiva zona di Sottopoesini, situata nel pittoresco comune di Bondeno, nella provincia di Ferrara, si è verificato un tragico incidente aereo. Un elicottero è improvvisamente precipitato all'interno di un affascinante bacino d'acqua, noto come Cava 6. Questo tragico episodio ha avuto luogo nelle immediate vicinanze del rinomato cavo napoleonico, ed è stato prontamente segnalato intorno alle 11.30. Le squadre di soccorso, scattate immediatamente in azione, hanno visto l'intervento tempestivo dei coraggiosi vigili del fuoco, che hanno dispiegato un elicottero proveniente da Bologna. In aggiunta, il nucleo di sommozzatori si è prontamente unito agli sforzi eroici. Il personale medico altamente specializzato del Servizio Sanitario 118 è stato rapidamente mobilitato per garantire la necessaria assistenza. Testimoni oculari, affascinati dalla scena, hanno segnalato la presenza di un misterioso giubbotto che dolcemente galleggiava nell'acqua, insieme a un paio di scarpe, offrendo intriganti dettagli che potrebbero risultare rilevanti per le complesse operazioni di recupero e l'indagine legata a questo tragico incidente. Ti ringraziamo per aver guardato questo video e se ti è piaciuto ti invitiamo a lasciare un bel mi piace e ad iscriverti al nostro canale.